Cosa vorrei? Io sto bene così come sono, perché devo chiedere, ho già abbastanza insomma. Guardi, io ho la pensione e mi accontento anch'io e basta che non me la tolgono. Un piccolo momento o almeno togliere le spese che abbiamo. Che non ci tartassano più perché è ora di finirla, siamo stufi, basta. Ho lavorato 35 anni per prendere 800 euro, guardi, proprio... Eh, qualcosina in più andrebbe bene, perché chi ha proprio niente rimane con niente. Chi ha tanto non viene toccato. Io sono a Vedova dal 2008, ma aumenti non ce ne sono. Mangiare bisogna mangiare, le bollette bisogna pagarle perché altrimenti andiamo nei guai. Manteniamo un sacco di gente. Allora, il comune ci amministra, la provincia ci amministra, la regione ci amministra, Roma ci amministra, Bruxelles ci amministra. C'è un sacco di gente che ci amministra, ma alla fine della fiera siamo sempre, non dico le parolacce che non è giusto. Eh, da aumentarsi un po' la pensione. Uno che prende la minima, come si fa? Paga l'affitto, compra le medicine, poi cose di resta. Alla fine della fiera siamo sempre noi a pagare. Alla fine della fiera siamo sempre noi.